Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Oggi parleremo di politica, primi 100 giorni dell'attività di Parlamento e di Governo nella nuova legislatura. Abbiamo ospite un parlamentare abruzzese, Guerino Testa, di Fratelli d'Italia. Buonasera Testa. Buonasera direttore, buonasera a chi ci ascolta da casa. Con il quale faremo il punto, appunto, sia sui temi del Governo ma anche su quelli del suo lavoro parlamentare in particolare. Proprio dal Parlamento arrivano notizie in queste ultime ore relative, in particolare al Senato, ma comunque ad un iter che presto raggiungerà anche la Camera. Nel decreto 1000 proroghe, che sarà comunque blindato poi nella successiva fase di conversione in aula, nella Commissione del Senato è stato raggiunto un voto importante, che è quello relativo al futuro delle concessioni demaniali e marittime, in particolare, ma le concessioni demaniali tutte rispetto a quella sentenza del Consiglio di Stato, alla direttiva Bolkistan, allo scenario che si era aperto di aste che sarebbero iniziate già nel 2024. Ecco, Testa, che cosa si è deciso in Parlamento? Che mediazione si è raggiunta anche all'interno della stessa maggioranza? Anzi, quali soluzioni soprattutto per i balneari e in particolare per l'Abruzzo, che ha proprio questa tipicità e quindi sente in maniera particolare questo problema, sono state trovate? Ancora buonasera a tutti, parliamo di uno dei temi caldi che il nuovo governo deve affrontare anche con grande forza e con grande dinamismo, ma io mi auguro che ci sia, e di questo sono certo, il contributo di tutte le forze politiche perché salvaguardare il futuro delle oltre 30 mila imprese balneari penso che sia un interesse di tutta la politica italiana e perché è una tipicità propria della nostra nazione. L'idea è quella di giungere ad una proroga di un anno, non per, come a volte si dice, rimandare il problema o di calciare la palla in avanti e poi vediamo cosa accade, ma perché in questo periodo, in un raggio di tempo che può andare tra i 5 e i 7 mesi, si dovrà fare una mappatura delle coste italiane per verificare se la quantità di bene, questo parlo ovviamente di banio, è una quantità scarsa, una quantità sufficiente oppure una quantità grande. Tradotto in termini ancora più semplici, per verificare le percentuali di costa che sono state già utilizzate, tra virgolette, dalle varie concessioni. Una volta che si avrà questo dato, che sarà un dato quindi ineludibile, certo e chiaro, il governo potrà sedersi in Europa per far capire all'Europa che probabilmente abbiamo tutte le caratteristiche, nel caso in cui ovviamente i risultati dovessero essere favorevoli, per essere scansati, tra virgolette, dalla direttiva Bolkstein. Ovviamente la partita non è facile, anzi molto complessa, non vogliamo creare aspettative alcune. È ovvio che Fratelli d'Italia da sempre ha fatto una battaglia molto riconosciuta su questo tema, ma anche al pari di altre forze politiche di maggioranza e quindi questo tema sarà uno dei temi più caldi di questo periodo. A questo si aggiunge anche il fatto che si andrà ad inibire i comuni di incominciare a fare tutte le attività propedeutiche per le aste, per gli avvisi pubblici. Questo perché? Proprio per evitare che possano nascere dei contenziosi e per avere poi un quadro chiaro e certo del perimetro in cui ci dobbiamo muovere. Ecco, questa soluzione naturalmente è quella che i balneatori avevano chiesto come provvedimento minimo da parte del governo e diventerà appunto certamente un atto parlamentare perché si andrà alla conversione del mille proroghe. Chiedo scusa direttore, posso aggiungere che c'è stata anche una fase così come si è detto che poi si è consolidato nella realtà di ascolto e di lavoro tra il ministro Fitto che è stato delegato in questa fase dal governo con tutte le associazioni di categoria proprio per non muoversi in maniera isolata ma in grandissima simbiosi con tutte le associazioni che vivono in questo momento un periodo di grandissima tensione perché tanti sono quelli che vorrebbero fare gli investimenti ma in questo momento sono con il freno a mano tirato e che molti, mi arrivano anche telefonate, che hanno disdetto degli ordini perché ovviamente quando tu non conosci in maniera chiara quelle che sono le regole del gioco non ti vai a impelagare in problematiche che potrebbero pure creare problemi finanziari importanti. Ma non c'è il rischio, qualcuno dice, la certezza che la Unione Europea apra una nuova procedura di infrazione con provvedimenti sanzionatori dal punto di vista economico molto forti per l'Italia? Il rischio potrebbe esserci, non dobbiamo essere chiari con chi ci ascolta e specialmente con i portatori di interesse ecco perché la materia è molto complessa, complicata, piena di insidie e quindi bisognerà cercare di avere un prodotto legislativo più chiaro possibile e meno attaccabile possibile perché poi queste infrazioni potrebbero anche avere dei riflessi negativi ad esempio sul PNRR che è uno strumento fondamentale sul quale la nazione, le regioni, i comuni e le province ci stanno lavorando e vedono in questo strumento un pezzo di futuro importante del loro agire politico. Testa, in questi primi tre mesi abbondanti di attività parlamentare sono state diverse le partite che hanno toccato anche interessi dell'Abruzzo. Ecco, volendo fare un primissimo bilancio della sua attività da deputato, in particolare dei dossier che ha seguito più da vicino, quali sono i temi più rilevanti su cui già ci sono delle risposte da parte di governo e di Parlamento? Guardi direttore, io sono diversi anni che sono impegnato in politica, lei si ricorda che sia in consiglio comunale Presidente della provincia, in regione fino a qualche mese fa e adesso in questa nuova esperienza molto entusiasmante. Però non pensavo che i primi mesi potessero essere così pieni e ricchi di impegni un'attività molto frenetica. E devo dire che la pattuglia dei parlamentari abruzzesi si è fatta distinguere lo spero in positivo perché alcuni dossier sono stati portati a termine, alcuni sono oggetto di interesse, sono tutti dossier che impattano in maniera forte e quasi quotidiana sull'Abruzzo e sugli abruzzesi. Un obiettivo ritengo molto importante che abbiamo portato a casa e io l'ho seguita grazie all'attività in simbiosi con il Presidente Marsilio è quella di aver fatto stanziare nell'annualità 2023 e nell'annualità 2024 ben 14 milioni per dare ristoro e indennizzare a tutti coloro che sono stati espropriati, parliamo di oltre 40 anni fa, per la realizzazione della tratta, famoso asse attrezzato che collega Pescara a Chiedi. Sappiamo che è un'arteria aviaria che viene ogni giorno vissuta da migliaia e migliaia di automobilisti, è un'arteria che insiste in un territorio dove ci sono tante aziende, le aree industriali, quindi pensare di aver dato una risposta dopo 40 anni a tutti coloro che in maniera ingiusta, che giustamente sono stati espropriati ma ingiustamente non sono stati indennizzati, penso che sia una vittoria raggiunta in pochissimo tempo. Quindi io ringrazio il Presidente Marsilio, ringrazio i miei colleghi parlamentari e anche degli altri partiti, ringrazio ovviamente il Ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti, con il quale abbiamo avuto un collegamento diretto con il Vice Ministro Galeazzo Bignami, che ha consentito di chiudere questa partita. Altra partita che stiamo seguendo, e devo ringraziare i colleghi Liris e Sigismondi sul futuro dei piccoli tribunali, che vivono un momento di grandi incertezze, anche qui stiamo seguendo l'evoluzione quotidianamente e ci sono delle aperture importanti da parte del Ministero, così come tutta la partita delle infrastrutture, che è un tema caldissimo di ieri, di oggi e di domani, ad esempio non solo sul futuro dei porti, sul futuro delle autostrade, le problematiche che conosciamo dell'A14, ma soprattutto dell'A24 e dell'A25, per quanto riguarda il collegamento Pescara-Roma, collegamento ferroviare. È un tema anche qui molto aspettato dai territori, dalle associazioni, da tutti i cittadini, dalle amministrazioni, è un tema che ovviamente trova anche momenti di scontro, però che deve essere dipanato, perché noi non possiamo oggi permetterci di avere un collegamento ferroviario che fa partire da Pescara e fa arrivare a Roma in oltre 5 ore. Questo non è più tollerabile e con un investimento importante che inizialmente era stato stimato per circa un miliardo e mezzo, e che invece gli studi dimostrano che l'investimento ammonta tra 6,5 barra 7 miliardi e non c'è un problema di stanziamenti economici, finanziari, ma c'è un problema di decisioni e spero che il territorio anche in questi giorni trovi la quadra su quella che può essere il passaggio che lascia meno ferite sul territorio, però che possa non compromettere lo stanziamento e non compromettere in maniera definitiva che non venga realizzata la tratta Pescara-Roma, che potrebbe portare a un risultato ottimo, ossia quello di percorrere in autostrada circa due ore il trasferimento da Pescara-Roma o viceversa. È un tema che lei non segue più direttamente, ma che conosce a mena dito, anche perché il Consiglio regionale ha già legiferato su questo tema, la nuova Pescara, è l'argomento di cui tutti discutono in regione, perché c'è un livello regionale nuovamente interessato da una proposta di legislazione che potrebbe andare a regime già immediatamente con il prossimo Consiglio regionale che ha come primo firmatario il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Il differimento al 2027, ma con cadenze precise degli impegni da parte delle tre amministrazioni comunali interessate, a suo avviso è una soluzione che dà certezze sul futuro del nuovo Comune oppure, come dice qualcuno, è un nuovo tentativo per affossare la fusione? Io la materia la conosco molto bene perché insieme ai colleghi Sospiri e Dincecco, con i sindaci, il Presidente del Consiglio, il Presidente della provincia, che peraltro è anche il Sindaco di Montesilvano, con gli amministratori tutti abbiamo fatto mesi e mesi di incontri. Parliamo di un fatto che esiste, esisterà, per onestà intellettuale non mi scrivo tra quelli che per prendersi un applauso in più o essere elogiato da un'associazione di così farà nel 2024. Io ritengo che si debba fare e si debba fare in maniera corretta e positiva per i territori. Quindi io se dovesse arrivare nel 2027 o nel 2026 non griderei allo scandalo perché vorrei ricordare, è vero che il referendum è del 2014 ma la legge è del 2018, nel 2020 ricordiamoci quello che è accaduto nel mondo e anche in Abruzzo e non è una scusa, quando i sindaci dovevano pensare ovviamente a quella che era la grande priorità, ossia il discorso vaccinare e contrastare la pandemia e fare la fusione di tre comuni, peraltro penso che questo sia il primo esperimento di fusione di tre comuni importanti, richiede del tempo, richiede delle preziose professionalità perché fare una fusione a freddo, come spesso si dice, questo non porterà nessun tipo di problema. Anche la migliore fusione alla quale io credo deve avere un tempo congruo perché all'inizio ci saranno sicuramente le problemi ma successivamente io ritengo che una città più grande sarà più bella, sarà più attrattiva, sarà più importante e giocherà un ruolo strategico non solo sull'asse adriatica ma penso nell'intero stivale italiano. Ovviamente ci sono dei tempi che adesso il Consiglio regionale detterà, penso anche nel prossimo Consiglio regionale, peraltro io ero uno dei tre firmatari, poi colui che è entrato al mio posto, Leonardo Addazio, ha rifirmato l'ultima bozza che è quella che andrà in Consiglio, penso il 28 se non addirittura il 21, quindi tra qualche giorno, io ritengo che nel 2027 non è una data per ritardare il problema e per dire non si farà perché oggi la nuova Pescara è di fatto, anzi la fusione di questi tre comuni è di fatto un fatto concreto anche perché se oggi dovesse arrivare uno da Bologna o da Firenze e percorre dagli alberghi di Montesilvano fino al foro di Francavilla non si accorge che sta attraversando tre città diverse. E quindi voglio dire che questa fusione si farà, oramai tutti e tre i sindaci, chi prima chi dopo, hanno capito l'importanza di questa fusione, però tutti e tre i sindaci al di là della colorazione politica hanno ben a mente, perché sono tre ottimi sindaci, che bisogna fare le cose nel miglior modo possibile perché non c'è solamente un discorso di incominciare a parlare e far parlare i servizi come possono essere quella della Polizia Municipale, quella del sociale, quella dei trasporti, ma c'è un tema ad esempio quello del bilancio delle masse debitorie dei mutui che non è facile da condividere in un tempo congruo. Ovviamente nella legge Reggiai si parla in maniera molto chiara che l'eventuale 2027 deve prevedere degli step che già sono contenuti nell'annualità 2023 perché se entro settembre 2023 non vengono raggiunte delle percentuali di lavoro importanti, già nel 2024 si tornerà al voto e verranno commissariati i comuni, in questo caso il comune di Spoltore. Quindi io penso che le tre amministrazioni che stanno facendo un lavoro quasi quotidiano, penso alla Commissione Statuto, porteranno a casa un prodotto legislativo utile per l'Abruzzo e gli abruzzesi. Allora, Testa, prima di salutarci facciamo un ultimo passaggio relativo intanto all'annuncio di un evento che ci sarà domani e poi questo è già lo spunto per parlare un po' del clima che si vive nel nuovo Parlamento perché domani sarà protagonista Giovanni Donzelli che è il politico più popolare in un modo o nell'altro nell'ultima settimana che verrà a Pescara per festeggiare i 10 anni di Fratelli d'Italia ma anche i primi 100 giorni di attività parlamentare e il suo capogruppo, Testa, insomma è una manifestazione che state organizzando nei minimi dettagli, mi pare ore 18.30, Museo delle Genti d'Abruzzo, ma soprattutto immagino ci sarà grande attenzione proprio nella città di Cospito, che Pescara è la città di Cospito, ricordiamo anche quello, anche sull'attenzione che su Fratelli d'Italia, su Donzelli, anche su Sottosegretari, si è accesa in quest'ultima settimana, lei come valuta queste vicende? Si sta rasserenando il clima? Si sono un po', come diceva Giorgia Meloni, abbassati i toni? Guardi, io ho vissuto ovviamente in diretta tutte le fasi, anche perché con il collega Giovanni Donzelli non siamo molto distanti come scranno, ma Giovanni Donzelli, poi lo dirà meglio il Ministro Nord, che comunque verrà a riferire la prossima settimana su questa vicenda come Ministro incaricato, se Donzelli ha riportato o meno delle notizie che non dovevano essere svelate, quindi lo dirà il Ministero e lo dirà chi sta facendo queste verifiche. Ma quello che ha detto Donzelli è esattamente quello che nella mattina scorsa un noto quotidiano nazionale aveva riportato. Peraltro la vicenda si è arricchita anche nei giorni successivi, con testimonianze su giornali che non sono proprio vicinissimi al partito che io rappresento e che hanno messo ulteriore sale su questa vicenda. Giorgia Meloni, il Presidente del Consiglio, in maniera giusta e ovviamente da Presidente del Consiglio ha detto a tutti di abbassare i toni perché il momento richiede una pacatezza e richiede che ci sia una convergenza su tematiche che sono ancora più importanti, ancora più attuali e che hanno un interessamento ancora più diretto e principale sulla vita degli italiani. Spero che domani non ci sia nessuna manifestazione contro Donzelli o a favore di Cospito, spero che domani ci sia solo una giornata di politica che Fratelli d'Italia organizza molto spesso e lei come direttore di una testata importante segue l'attività frenetica che Fratelli d'Italia a tutti i livelli sta svolgendo, parlo in questo caso a livello regionale perché cerchiamo di essere vicini al territorio, di raccontare quello che accade nelle istituzioni passando per i banchetti, col tesseramento e quant'altro. Sul discorso che ha capigliato un po' varie parti all'interno del Parlamento, ossia il 41 bis, penso che il Ministro ieri l'ha ribadito, ma penso che anche altri personaggi di altri parti politiche, non solo i centrodestra, hanno ribadito l'importanza del 41 bis e il fatto che Cospito debba stare in questo regime. Allora ricordiamo domani appuntamento ore 18.30, manifestazione aperta anche al pubblico con la presenza di tutto il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia, insomma saranno anche i senatori a Pescara e soprattutto Giovanni Donzelli. Grazie Guerino Testa, appresso per ulteriori aggiornamenti dell'attività parlamentare che noi seguiamo cercando sempre anche un po' di stimolare questo canale tra i nostri rappresentanti di Parlamento, di tutte le forze politiche e i loro elettori abruzzesi. Arrivederci!